La Oasi Verde SRL con sede a Cava dei Tirreni svolge la sua attività nel settore della vendita dei mangimi, prodotti e macchine per l'agricoltura, PET, arredo giardino, irrigazione, fai da te, pellette e stufe e da quest'anno come novità anche legumi, cereali e servizio chiavi. Sono ripresi da qualche giorno, dopo la pausa del mese di agosto, i lavori per la realizzazione della nuova ruotatoria a Viale Marconi all'intersezione di Via Talamo. Tuttavia, a sollevare immediatamente aspre polemiche in città, è stato l'abbattimento del pino domestico che si ergiva nei pressi dell'incrucio. La rimozione dell'imponente albero, di circa 30 anni, non classificato come specie monumentale senza particolare valenza paesaggistica, non è stata però una diretta conseguenza degli interventi di miglioramento della viabilità. Il progetto originario prevedeva infatti la sua permanenza. Piuttosto, hanno fatto sapere da Palazzo di Città, è stata determinata dal fatto che il pino domestico era divenuto oramai un pericolo per le numerose persone che quotidianamente transitano per quel tratto di strada, come stabilito anche dalla perizia eseguita da un agronomo. L'analisi delle condizioni fitostatiche ha mostrato infatti come l'albero fosse compromesso nell'apparato radicale e nella chioma, a tal punto da essere valutato pericoloso ed a rischio molto elevato in caso di forte vento. Rispetto a delle casistiche, rispetto a dei dati che sono stati forniti dall'agronomo, quindi da noi chiamato, al tecnico da noi chiamato, si è visto che il pino aveva delle radici che comunque ne erano consistenti e con una strumentazione particolare hanno appurato che in caso di forti venti questo poteva crollare. Per questo motivo è stato agliato, non abbiamo nessun interesse a tagliare albi nella nostra città, ma solo a mettere in sicurezza cose e soprattutto persone che transitano in quell'area. Rispetto alle polemiche che sono sorti, purtroppo noi siamo disponibili anche eventualmente a chiarire con chi vuole delle spiegazioni maggiori.